Videolezione di scienze. Il corpo umano. Apparato escretore. I concetti chiave dell'apparato escretore sono che è un insieme di organi per eliminare le sostanze di scarto, formato dai reni, filtri delle sostanze tossiche, e dalle vie urinarie, ovvero ureteri, canale di collegamento, vescica, serbatoio elastico, uretra, canale di espulsione. L'urina è il liquido attraverso cui le sostanze di scarto vengono trasportate. Mantengono pulito il nostro sangue. Per questo motivo sono fondamentali per la nostra salute. I reni sono un sistema di filtraggio del sangue da sostanze tossiche o di scarto. Le vie urinarie sono condotti per espellere i rifiuti del nostro corpo. Dove sono i reni? I reni sono due organi simili a fagioli. Sono collocati dietro l'intestino, sotto la gabbia toracica, rispettivamente ai lati della colonna vertebrale. La funzione dei reni I reni servono al controllo della pressione sanguigna e della maturazione dei globuli rossi grazie alla produzione di renina. Servono a regolare l'equilibrio idrico e del pH ematico. Servono a filtrare i prodotti di scarto e le sostanze tossiche. La struttura dei reni I reni hanno una struttura spugnosa, costituita da tubicini detti nefroni, attraverso cui passa il sangue per essere filtrato una decina di volte al giorno. L'urina raccoglie gli scarti filtrati dai reni e li conduce all'esterno del corpo, passa per gli ureteri, si accumula nella vescica e fuori riesce attraverso l'uretra. Per approfondimenti si possono consultare questi siti. Wikiversity Corriere della Sera Treccani